Mi ha colpito perché uno dei pochissimi posti che non sono riusciti a coprire dopo l'avvicinamento tra Conte e Draghi è il suo posto, cioè il ministro dello sport. Sembrava che fossi io quello conflittuale all'interno del mondo dello sport, invece un accordo non si trovava. Ieri addirittura il decreto per il Coni al Senato è passato con la fiducia, la prima fiducia chiesta dal governo Draghi proprio su questo provvedimento. In queste ore in realtà sento che... C'è un nome che circola? Pare che possa esserci convergenza sul nome di Valentina Rezzali come possibile, che ovviamente è una grandissima campionessa, una delle più grandi. Grande campionessa, schermitrice, già deputata di scelta civica all'epoca. Sì, e poi ovviamente da qui che possa far bene il ministro, io ovviamente, a qualora sia lei sottosegretario, anzi perché ormai i ministri li abbiamo già tutti, se dovesse essere lei la persona scelta dal presidente Draghi, speriamo che come dire... Cioè lei dice che da una parte dello sport sicuramente lo conosci, dall'altra fare il ministro è un lavoro... Lei si ricorda la polemica sul fatto che io non provenissi dal mondo... Non era un amante di sport. No, 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 amante di sport, che non provenissi da quel mondo, perché sicuramente invece anche si sono un amante dello sport. Però appunto amministrare è una cosa, io rivendico da questo punto di vista il primato della politica, cioè saper portare avanti un ministero, avere la competenza di programmare, gestire dei fondi, scrivere dei decreti, le delibere un conto, fare grande attreta è un altro. Che Lavezzali, se dovesse essere lei, sia una grandissima campionessa, ci mancherebbe altro, su questo non c'è ombre di dubbio. Se poi sarà, qualora sempre fosse lei, in grado anche di gestire la delega dello sport, lo vedremo. Aspetta, mi racconti...